E' via libera del governo alla delega che pone le basi per la riforma del fisco, senza toccare però le aliquote IRPEF. Non viene introdotto il fondo che doveva finanziare il calo delle tasse con i proventi della lotta all'evasione. Sono prevalse le ragioni del rigore e le preoccupazioni sulla tenuta dei conti pubblici. Cambia invece il catasto. La rendita, cioè la base imponibile su cui pagare le tasse, prevede il passaggio dai vani ai metri quadrati. Si cerca di agganciarsi ai valori medi di mercato degli immobili. La delega spinge sulle direttrici della certezza e dell'equità, semplificare la vita del contribuente, riordino degli sconti e lotta all'evasione. E' confermato lo sfoltimento delle agevolazioni, ma si sottolinea l'attenzione per la tutela delle famiglie e per le persone economicamente svantaggiate. Vengono sveltite le controversie giudiziali. Arriva l'IRI, l'imposta sul reddito delle società, ma l'imprenditore potrà scegliere di tassare separatamente reddito azientale e personale. Vengono messe all'asta le frequenze per il digitale terrestre. Viene messa in archivio, infine l'assegnazione gratuita. E passiamo alle nuove modalità di pagamento dell'IMU, la nuova imposta sulla casa, al posto dell'ICI. Un emendamento della Commissione Finanza e del Parlamento prevede che il pagamento solo per l'abitazione principale possa effettuarsi il 18 giugno, il 17 settembre, il 17 dicembre. Ma chi vorrà potrà pagare l'imposta anche in due sole rate. Con la prima e la seconda rata si pagherà un terzo dell'imposta, con la terza il saldo. Le agevolazioni sono solo sull'abitazione principale, in cui si dimora e si risiede anagraficamente. Lo sconto è 200 euro per famiglia e 50 per ogni figlio con meno di 26 anni. In caso di separazione o divorzio pagherà l'IMU chi resta nella casa, anche se non è proprietario. Non pagano l'IMU i fabbricati distrutti a seguito di ordinanze o inagibili nelle zone colpite da terremoti in Abruzzo.